Un caro saluto da Mario Giulianci agli amici di Salerno Notizie, il consueto appuntamento per sapere che tempo farà nel fine settimana e nella prossima settimana. Bene, venerdì e sabato sarà bel tempo, ma domenica, domenica 11 marzo, arriverà una perturbazione atlantica già giunta sul nord Italia e porterà delle piogge per tutto il giorno sia su Salerno che sulla provincia. La medesima perturbazione insisterà con piogge fino alla giornata di martedì della prossima settimana. Poi mercoledì migliora, ma giovedì arriva un'altra perturbazione la quale porterà ancora piogge sia su Salerno e provincia, piogge che probabilmente potrebbero continuare anche fino a venerdì della prossima settimana. Per quanto riguarda le temperature, queste domenica saranno di gran lunga, al di sopra della meglia, valori massimi intorno a 20-22 gradi sia su Salerno e provincia per l'arrivo dell'anticiclone nordafricano. Poi l'anticiclone se ne andrà, le temperature scenderanno, ma resteranno ancora valori massimi al di sopra della meglia con valori intorno a 14-15 gradi. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giulianci.